La petizione online è firmata da 533 cittadini con la quale si richiede la bonifica e il risanamento ambientale in località Comunia di Lazzaro, frazione di Motta San Giovanni. La petizione non è altro che l'ultimo step di un percorso ben articolato portato avanti da Ancadic, che da tanto tempo denuncia lo stato di disperazione attuale della popolazione di Lazzaro, costretta appunto a vivere tappata in casa e con continui disturbi verosimilmente dovuti alle esalazioni e riguarda nella fattispecie il conferimento in discarica o impianti di trattamento autorizzati dei rifiuti depositati a cielo aperto in varie zone della vassa area dentro e circostante di impianto di compostaggio, a tutt'oggi interessati da diffusi focolai di incendio. La messa in sicurezza e la definitiva chiusura della discarica comunale dismessa nel 2003, anche essa tutt'oggi interessata dall'esplosione di focolari a seguito del devastante incendio che ha interessato lo scorso 2 agosto la località Comunia. E ancora la realizzazione di opere a protezione dell'abitato del centro cittadino di Lazzaro, essendo alto il rischio che a Monte si possano registrare importanti frane che potrebbero coinvolgere la popolazione a valle, atteso il dissesso idrogeologico presente nella vassa area di Comunia, determinatosi anche a seguito dell'interramento di milioni di metri cubi di rifiuti ad opera della ditta Eco Service, condannata, lo ricordiamo con sentenza di primo grado, nel 2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. La messa in sicurezza dell'unica strada a via Sant'Ilario che conduce alla località Comunia, la cui pericolosità è stata accertata dai funzionali del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Calabria, in sede di sopralluogo eseguito nel 25 gennaio 2011, assieme ai funzionari in rappresentanza di altri enti.